Gli studenti abruzzesi continuano ad essere tra i più affezionati ai licei. Le ha scelti infatti il 62,7% tra coloro che hanno presentato domanda di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2024-2025 a fronte di una media nazionale del 55,63%. Si tratta della seconda percentuale più alta in Italia dopo solo quella del Lazio. Di contro rispetto alle altre regioni risultano meno apprezzati gli istituti tecnici e professionali. I primi sono stati scelti dal 28,9% degli studenti contro il 31,66% dei colleghi italiani. Nei secondi andrà solo l'8,4% dei ragazzi a fronte del 12,72% a livello nazionale. La novità più chiacchierata del nuovo anno scolastico, cioè il liceo del Made in Italy, ha ottenuto solo lo 0,2% delle iscrizioni, ma d'altronde in tutta Italia sono appena 375 gli studenti che hanno scelto il percorso di studi proposto dai licei che avevano già attivo l'indirizzo Scienze Umane, opzione economico-sociale. L'Abruzzo quindi è in controtendenza rispetto al trend generale di ripresa delle iscrizioni agli indirizzi tecnici e professionali, in lieve aumento rispetto all'anno scorso, a scapito dei licei che invece sembrano perdere a PIL. Tra i singoli indirizzi di studio i giovani abruzzesi prediligono ancora il liceo scientifico scelto dal 17,83%, seguito dalle scienze applicate 11,9% e più staccato dal linguistico 7,3%. Per quanto riguarda i tecnici, al primo posto figura l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con il 7,9%. Negli istituti professionali la scelta più ricorrente è per l'alberghiero con il 3%. Per quanto riguarda i tecnici, al primo posto della scelta più ricorrente è per l'alberghiero.